Se veramente TikTok che è gestito da imbecilli non è una cosa bella E parlo in questo video perché praticamente TikTok Poi anche mi ha prossimamente ritorto un video Perché avevo una canzone veramente proprio Una canzone chiamata Elika Che chiamava proprio Ok Che chiamava praticamente il Forse il nazismo anche se questa canzone Era prima dei lavoratori tedeschi Lavoratori tedeschi non fa niente E il motivo è incitamente all'odio Ma di che cosa se non ci trovavo nessuno lì dentro Non andavo nessuno Comunque proprio è capitato E credo che TikTok Risto veramente da te lo graditi Non è che lascio per adesso Vabbè magari lascio quando mi chiedono il profilo Ma sappiamo che ho fatto bene Quindi ragazzi In questo video è tutto Alla prossima Ciao